Mi chiamo Giancarlo e in questo video ci farò vedere come riparare l'auto senza spendere un soldo. Guardate! Prendiamo come esempio l'auto della polizia. Prendiamo un'arma e la distruggiamo l'auto. Non tutta. Fariamo anche le ruote. Prendiamo un'arma e la distruggiamo. C'è anche il fumo nero. Non so se si vede bene. Ecco. Le ruote sono tutte distrutte. Non vanno bene. Allora, per riparare l'auto dovete andare in un garage. Nel vostro garage. Così. Entrate e uscite. Uscite dal garage e rientrate subito dopo. Vedete che l'auto, scusate. E' tutta riparata. Non c'è un graffio. Proviamo oggi con l'auto normali. Per esempio questa. Il quad. Cosa si vede meglio? Sempre distruggiamo. Sempre distruggiamo. Lì il fumo. Entriamo nel garage. Usciamo. Entriamo subito dopo. E' tutta riparata. E' tutto per oggi. Alla prossima. Commentate. Ciao.